Eccoci qui ragazzi, finalmente è arrivato il 20 aprile 2018, l'uscita di God of War a rendere il tutto più epico. C'è la nostra splendida Collectors Edition con Atreus e Kratos in primissimo piano qui su un lato della scatola. La scatola è veramente grande, siamo sui 35x30 per circa un 25x26 di altezza. Dei loghi sul lato della scatola, qui dietro c'è la descrizione del gioco con tutti i contenuti aggiuntivi sia digitali che fisici. Il logo in rilievo sopra la scatola lucido, spettacolare. Ed ora andiamo all'apertura. Ecco qui, non l'ho ancora aperto, lo sto aprendo ora per la prima volta. Ho provato a fare un video prima ma mi si è bloccato a un certo punto. Quindi andiamo a vedere cosa contiene questa scatola, spettacola. Non veniva fuori. Ok. Cioè, bellissima ragazzi, bellissima. Guardate che scatola. Togliamo quest'altra. Anche questa con un'illustrazione spettacolare. Qui non c'è nulla in rilievo però. La faccio vedere. Eccola qui. Ora, il come si apre è un'incognita. Ok, semplicemente dall'alto. Faccio vedere dal lato giusto. Ecco qui. Che spettacolo. Tutto in runico. Polistirolo ovunque. Il gioco in steelbook. Spettacolo. Non so se riuscite a vedere il logo. Bellissimo. Questi qua credo che sia il voucher. Per i contenuti aggiuntivi. Ho capito. Scatole nelle scatole nelle scatole. Anche questa la togliamo. Ecco qui. Ora qui. Vediamo. Scotch. Quindi. å representatives. Scatole. 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 ed ecco qui allora prima di tirar fuori la statuetta c'è la nostra mappa in pergamena praticamente una litografia una litografia che poi aprirò insomma per vederla le statuine vi farò vedere vi faccio vedere ora che statuine sono le statuine dei fratelli Uldra come potete vedere non metterà mai a fuoco non ce la potrà mai fare però ok sono due carinissime statuine e qui c'è il pezzo forte della collezione pesantissima tra l'altro che spettacolo bellissima bellissima Atrebus che ha appena spaccato il cranio con una freccia a un nemico Kratos che invece ha appena sgozzato con il leviatano non rende dal video ma è veramente veramente molto bella ed ecco qua questa è la fantastica Collector's di CODOWAR ciao